In treno dal Valdarno a Firenze e viceversa viaggiando comodamente in treni confortevoli e di ultima generazione. Nuovi convogli, jets e tre Vivaldo appena collaudati infatti dovrebbero sfrecciare sulla linea ferroviaria Rezzo-Firenze attraversando la vallata per offrire più servizi e qualità ai pendolari. L'annuncio arriva direttamente dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che ha seguito proprio in treno il percorso della manifestazione cicloturistica a livello regionale con tappa d'Arezzo organizzata da FIAP e da WISPE in collaborazione con ANCI, FS e Regione. Nelle prossime settimane, ha sottolineato l'assessore Ceccarelli, sarà sottoscritto con Ferrovia un nuovo contratto Ponte che avrà clausole più severe ed impegnative rispetto al precedente e nell'organizzazione saranno previsti tre Vivaldo e altri jets nuovi di Zecca su una linea che soffre di servizi e carenze di convoglie negli orari di maggiore afflusso di viaggiatori per raggiungere scuole e lavoro. Stiamo lavorando per un trasporto sempre più qualificato, ha detto Ceccarelli, tuttavia qualche preoccupazione da parte dei pendolari rimane dopo gli incidenti negli ultimi due anni a questi tipi di treno, l'ultimo nel luglio scorso in Galleria San Donato quando un jets perse una porta per un difetto di alconvoglio, in sostanza due viti malmesse. La regione toscana non ha ricevuto alcuna comunicazione né ufficiale né ufficiosa dall'autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria o da Trenitalia in merito ai treni che possono o non possono circolare nella Galleria San Donato, aveva replicato lo stesso Ceccarelli ad inizio settembre al comitato pendolari del Valdarno che chiedeva chiarezza e garanzie. Per l'assessore regionale tuttavia è ovvio che se una o più tipologia di treni non fossero ritenute idonee per il servizio, il problema sarebbe del gestore che dovrebbe a quel punto individuare altre modalità per programmare un servizio essenziale per una tratta ferroviaria da potenziare.